e solo sulle fonti tv c'è le fonti fast finance peraltro in una veste grafica e con una sigla rinnovata il nostro modo di spiegare la finanza in modo semplice in una manciata di minuti accessibile a tutti quindi lo spazio dedicato alla formazione da una parte e anche all'educazione finanziaria perché sappiamo e lo diciamo sempre sulle fonti tv quanto serva a fare un po di ripasso su alcune questioni che servono per guardare correttamente i mercati e soprattutto per operare sui mercati ed è il caso di questa puntata di fast finance tra poco vi spiegheremo perché intanto vi introduco l'ospite che ne parlerà con me che mi aiuterà anche per me stessa a capire di più dell'argomento di oggi enrico j buongiorno ben trovato a noi la buongiorno ben trovata un saluto alla redazione a tutti gli ascoltatori grazie per questa opportunità e speriamo di portare un contributo fattivo e positivo prima di andare a svelare l'argomento poi importante della puntata vedi che in sovrimpressione abbiamo voluto scrivere trend is your friend che è uno dei motti di wall street raccontiamo subito di cosa si tratta e poi naturalmente sveliamo l'argomento di questa puntata di fast finance sì come hai correttamente detto tu manuela trend is your friend è probabilmente il motto principe fra i più famosi e comunque conosciuto a livello globale da quanti fanno trading e borsa semplicemente è un motto che incita e porta gli operatori a evitare di andare a creare sistemi operativi di trading troppo complicati e ci sono anche altri motti che poi si associano a questo che comunque richiamano la semplicità un motto molto carino che spesso cito è kiss ossia bacio che semplicemente l'acronimo di keep it simple stupid fare cose semplici stupido e quindi ecco anche trend is your friend ci ricorda semplicemente che esiste come in tutte le cose anche in borsa un trend e solitamente per sua definizione il trend tende a persistere ok allora prima ancora di parlare dell'argomento faccio un'altra piccola premessa e poi do la parola a enrico j naturalmente io questo spazio lo definisco un po un contenitore di formazione ed educazione finanziaria chiaramente quando si parla di educazione finanziaria è qualcosa che di talmente ampio che sarebbe impossibile come dire circoscrivere in breve tempo però riguarda tanti pezzetti della della finanza del mondo della finanza e abbiamo scoperto anche quest'anno soprattutto con il mese che ogni anno è dedicato all'educazione finanziaria che in italia ci sono ancora tanti passi da fare visto che tu ti occupi di trading oggi parliamo proprio di trading affrontiamo uno degli argomenti che hanno a che fare con il lavoro di trading aggiungo un tassello sappiamo molto bene enrico lo abbiamo detto anche questo più volte che soprattutto da quando c'è il covid da quando tutti ci siamo chiusi più in casa e da quando tutti abbiamo cominciato ad avere un po più confidenza con la tecnologia molte persone si sono dedicate al trading online quindi il trading è diventato sempre più seguito chiaramente non tutti l'hanno fatto nel modo migliore anche perché correggimi se sbaglio è uno di quei classici mestieri che si pensa si possano fare così con uno schiocco di dita no cioè mi sveglio al mattino dico ma sai mi metto a imparare qualche grafico e voilà il gioco è fatto è corretto c'è un po questo questo questa credenza sbagliatissima anche perché poi parliamo di soldi beh la credenza più che una credenza è proprio un armadio a quattro ante se possiamo fare una battuta nel senso nel senso che in italia hanno proliferato in maniera massiva e broker sono oltre 160 e chiaramente se c'è questa offerta è perché c'è una domanda il fatto di fare trading effettivamente semplice nel senso che non bisogna dimostrare di avere alcuna conoscenza si vanno semplicemente a rispondere ad alcune domande personali si apre un conto presso un broker e con una normale connessione internet ormai anche da telefonino è possibile fare trading si compra e si vende petrolio euro indici e titoli azionari e quindi è sostanzialmente semplice fare trading e soprattutto si è portati si è diciamo illusi spesso dal concetto della leva finanziaria per cui rimanendo purtroppo in lockdown si va a vedere come ci siano tante offerte come semplicemente proprio grazie alla leva finanziaria che spesso è usata in maniera non corretta anche depositando cifre esigue minime a partire da 500 da 1000 euro si può cominciare a fare trading ed ecco che quindi scatta l'illusione che con pochi soldi si possano fare tanti soldi e soprattutto questo possa accadere velocemente ok allora nell'attività di trading così andiamo proprio nella nella questione coloro che fanno analisi tecnica quindi parliamo del tuo caso utilizzano indicatori oscillatori avevamo già dedicato un'altra puntata di fast finance a questo ai diversi indicatori oscillatori che ci sono e ovviamente oggi qualsiasi piattaforma li offre no di default e ce ne sono veramente tanti ma quello più conosciuto e ancora preferito dai tre di tutto il mondo è così vediamo il titolo della puntata la media mobile oggi parliamo proprio di trading e medie mobili diciamo subito di cosa si tratta enrico sì allora come hai detto tu tutte le piattaforme offrono una varietà estesissima di indicatori oscillatori e questo spesso tende a creare anche confusione perché chiaramente si va a cercare il cosiddetto sacro graal quindi quel sistema di trading che sia infallibile si vanno ad ammocchiare sul grafico ad aggiungere continuamente oscillatori indicatori fino a farlo diventare un albero di natale alla fine quasi non si vede più neanche il prezzo da qui appunto quella quella cronimo che fa le cose semplici stupido le medie mobili sono un indicatore innanzitutto perché ci sono gli oscillatori che vanno usati quando non c'è un trend quindi nel momento in cui il prezzo oscilla e per quello si chiamano oscillatori e poi ci sono gli indicatori che invece vanno usati e ci vanno a evidenziare la presenza di un trend per cui ci indicano un trend per questo si chiamano indicatori ce ne sono vari e l'indicatore per l'appunto più famoso più usato soprattutto da trader sia retail che istituzionali è la media mobile che sostanzialmente niente altro è che una semplice linea che si va a sovrapporre sui prezzi nel grafico e questa linea ci va a indicare dove si trova il prezzo mediamente in un periodo quindi se io molto semplicemente dovessi utilizzare una media e andare a settarla quindi a dire questa media che prezzo mi deve rappresentare nel tempo mi deve rappresentare il prezzo ad esempio degli ultimi 20 giorni quindi io andrò a scegliere una media mobile a 20 periodi su un grafico daily e il punto nel quale si trova la media mobile significa che mediamente negli ultimi 20 giorni il prezzo era a quel livello e quindi se il prezzo in questo caso fosse al di sopra io starei vivendo un trend negli ultimi 20 giorni che è un trend rialzista e quindi in maniera visiva molto semplice quando vedo il prezzo sopra la mia media mobile vuol dire che il prezzo è in una fase di trend rialzista e questo chiaramente mi va a dare subito dei paletti operativi e mi dice guarda attenzione che tu stai in una fase di trend rialzista e quindi visto che proprio come hai giustamente introdotto tu oggi fast finance trend is your friend dovremmo cercare di seguire il trend e quindi di metterci in questo caso al rialzo molto spesso invece cosa accade che per cercare di fare tra virgolette passiamo in termini i fenomeni molti trader soprattutto neofiti cercano sempre di operare contro trend quindi ecco la media mobile è un primo paletto secondo me importantissimo e utilissimo soprattutto perché si avvicina a questa attività peraltro la media mobile è uno dei primi indicatori mai creati no perché chiaramente c'è la necessità da parte di trader professionisti di andare a interpretare l'andamento del prezzo quindi è per questo non solo per questo immagino ma è anche per questo che è così preziosa la media mobile sì perché ci sono altri indicatori oscillatori estremamente più complicati che però ci vanno alla fine a creare confusione proprio perché si vanno a spaccare il capello in quattro come si suol dire la media mobile è un indicatore che invece ci dà subito una una situazione chiara e di tranquillità e va a eliminare il cosiddetto noise cioè il rumore di fondo spesso si vedono dei grafici con dei movimenti erratici o con delle spike per chi usa le candele giapponesi che ci possono trarre in confusione e ci chiediamo ma stiamo andando in una fase di rialzista in una fase di bassista mentre invece una media mobile semplicemente ci dice attenzione al di sopra siamo rialzisti al di sotto siamo ribassisti e quindi già ci dà una prima indicazione se dobbiamo operare metterci lunghi o metterci corti poi ognuno dovrà scegliere con una sua strategia personale il corretto timing ma la media mobile già ci impedisce di metterci contro trend e quindi sostanzialmente ci mette le probabilità a nostro favore ok allora io vorrei vederlo anche graficamente questa media mobile così tu la spieghi insomma capendo anche qual è il maggior pregio proprio delle medie mobile no cosa fanno fondamentalmente l'hai già spiegato però con un grafico secondo me si vede ancora di più anche perché accompagna fondamentalmente no il trend quindi lo vediamo sì eccolo vediamo eccolo qua esattamente questo è il grafico di apple e tu hai evidenziato come appunto la media mobile semplice a 200 periodi accompagni il trend rialzista eccolo qui sì una media mobile a 200 periodi ci indica che nei periodi quindi in questo caso nei giorni di borsa perché il grafico è daily quindi negli ultimi 200 giorni sostanzialmente la media del prezzo è quella indicata proprio dalla dalla linea blu e come vediamo per tutto il periodo il prezzo transita al di sopra della linea blu della media mobile a 200 quindi la prima indicazione che chiunque avesse cercato sui social lo si vede spesso di mettersi magari short quindi di operare al ribasso su apple statisticamente sarebbe in perdita perché il prezzo è sempre transitato sopra a questa media 200 e vediamo che se ci pensiamo la media è dove mediamente il prezzo è stato nell'ultimo anno di borsa diciamo l'ultimo anno perché 200 sono i giorni appunto di borsa aperta all'incirca calcolando le festività e sabati le domeniche così via certo allora cosa significa che mediamente il prezzo è lì e quindi ogni volta che il prezzo si allontana troppo dalla media è chiaramente in una fase di eccesso e quindi la media tende a calamitare verso di sé il prezzo e vediamo che quando il prezzo si avvicina alla media essa comincia a fungere da supporto e quindi lo accompagna ogni volta nelle nuove fasi di rialzo per cui già semplicemente avere un grafico come questo di apple nel quale vediamo che non ci si dovrebbe mettere a ribasso e anzi ogni volta che il prezzo scende si avvicina alla media dovremmo e poi lì si possono utilizzare altre strategie pattern di candele trend line eccetera eccetera ma in ogni caso ogni volta che il prezzo si riavvicina alla media noi dovremmo cercare di operare in ottica long perché il trend è chiaramente rialzista e quindi vediamo come già un trading system semplicissimo come questo quindi di operare con il prezzo che va a trovare il supporto nella media mobile ci impedisce di operare contro trend e di andare a fare molte operazioni molto spesso in perdita ecco come già una media mobile è indicativa in maniera sostanziale allora ricco perdonami che abbiamo una media mobile a 200 periodi la media mobile però può essere settata a seconda del tipo di trading che si vuole fare corretto è correttissimo io qui ho utilizzato una media mobile a 200 perché magari faccio un trading di posizione quindi sto a mercato più a lungo ma se io faccio un trading dove per mia comfort zone per mia predisposizione mentale faccio più operazioni di più breve durata posso utilizzare una media magari a 20 periodi che mi rappresenta all'incirca un trend mensile perché appunto calcolando i sabati e le domeniche abbiamo 22 giorni di borsa la media mobile la posso usare su tutti i time frame quindi ha un vantaggio che è valida sempre su qualsiasi strumento e su qualsiasi time frame sono io che la vado a settare in base alla mia durata media di un'operazione ottimo e poi questa come abbiamo letto appunto nel grafico di apple è una media mobile semplice perché semplice perché i trader possono utilizzarne anche più combinate oppure esistono altri tipi cosa succede ma è tutte e due le cose che ha detto manuela nel senso esistono altri tipi di media mobile la media mobile semplice semplicemente prende gli ultimi 200 periodi fa la media matematica e tra e transita su quel livello la media mobile esponenziale invece da più peso agli ultimi dati degli ultimi giorni ci sono le medie mobili adattive esponenziali triangolari e così via sostanzialmente le due tipologie più utilizzate sono la semplice e la esponenziale che dà più peso agli ultimi giorni per chi vuole fare probabilmente operazioni un po più di breve durata più reattiva al mercato e molto spesso è possibile usarne anche in combinata e di fatti abbiamo preparato anche in questo caso un altro grafico relativo al petrolio greggio dove possiamo andare a vedere quello che succede spesso e che molti analisti fanno e quindi di utilizzare non una sola ma due talvolta anche più medie mobili che possono dare dei segnali ancora più precisi eccolo qui è quello esatto in questo caso ho voluto giocare tra virgolette su un trend ribassista quello che vediamo sostanzialmente molto molto chiaro c'è un punto che ho evidenziato con la ellisse a sinistra dove la media mobile a 21 periodi ha utilizzato la 21 e non la 20 si chiederà ma perché la 21 beh molto spesso gli analisti trader utilizzano la 21 perché 21 è uno dei numeri di fibonacci quindi c'è anche questa questa curiosità sostanzialmente in quel punto la media mobile a 21 incrocia e taglia al ribasso la media mobile a 200 cosa significa significa che in quel momento il prezzo negli ultimi 21 giorni è più basso di quanto sia stato nell'ultimo anno quindi si sta nell'ultimo mese creando un trend ribassista rispetto alla media dell'anno quindi stanno cambiando le carte in tavola e vediamo come è possibile operare ogni volta che il prezzo si riavvicina alle medie può essere un segnale ribassista in maniera speculare di quanto abbiamo visto su apple il quale il prezzo era sopra e riavvicinandosi alla media essa fungeva da supporto qui da sul petrolio greggio le due medie fungono invece da resistenza e vediamo che ogni volta che il prezzo tende a riavvicinarsi alla media mobile a 21 essa funziona appunto da resistenza e lo respinge e quindi ecco anche in questo caso nel momento in cui le due medie mobili sono disposte al ribasso per cui abbiamo sopra la 200 e sotto di essa abbiamo la 21 c'è un trend di breve ribassista e qualsiasi riavvicinamento del prezzo verso la media può essere sfruttato in ottica short e questo è un esempio di trading molto semplice che va a combinare due medie mobili e che dà un primo segnale di attenzione all'incrocio di esse e poi con il riavvicinamento del prezzo quando esse fanno da resistenza si può operare in ottica ribassista c'è chi scrive anche durante questo nostro appuntamento di fast finance proprio per saperne di più una domanda è quella che ti ho fatto io quindi è possibile avere chiede questo amico una distinzione tra semplice ed esponenziale non so se la vuoi ribadire in un flash enrico poi c'è un'altra domanda e poi devo vedere anche un altro grafico che ci mostra un altro esempio insomma certo la media mobile semplice ad esempio a 200 giorni prende i dati degli ultimi 200 giorni le chiusure e li somma e poi li divide appunto per 200 quindi una media mobile matematica mentre le ha esponenziale prende comunque i dati dei 200 giorni ipotizzando che siamo su un grafico daily se fossimo su un grafico per esempio orario sarebbero 200 ore quindi 200 campionamenti in parole povere nella media esponenziale si va a dare più peso non a tutti in maniera uguale ma avranno un peso inferiore i primi campionamenti dei 200 avranno un peso invece maggiore gli ultimi campionamenti dei 200 cioè si va a porre un po più attenzione su quelli che sono le ultime candele le ultime sessioni proprio perché magari dati più vecchi potrebbero essere appunto essendo vecchi magari meno influenti rispetto agli ultimi che si stanno creando e quindi la media può essere leggermente differente diciamo per esperienza e l'ascoltatore potrà poi verificarlo la situazione su due medie da esponenziale a semplice non cambia moltissimo la 200 diciamo la media mobile esponenziale è un po più reattiva è un po più vicina al prezzo chiaramente perché dà più peso a quello degli ultimi giorni ok allora andiamo a vedere un altro grafico sul petrolio greggio dove si vede un forte segnale rialzista perché cosa succede qui sempre analizzando le medie mobili e in questo caso vediamo come utilizzando le medesime medie mobili del grafico precedente si ha un incrocio al rialzo in questo caso per cui la media mobile a 21 taglia al rialzo la 200 e in quel momento anche il prezzo ha da poco tagliato al rialzo entrambe le medie mobili quindi abbiamo un doppio segnale praticamente in simultanea non solo l'incrocio delle medie mobili tra di loro al rialzo ma anche il prezzo che va quasi subito dopo sopra a entrambe per cui c'è effettivamente un cambio di trend notevole confermato immediatamente dal prezzo e in questo caso vediamo che come il prezzo dopo essere salito al di sopra delle medie mobili torna a validarle come supporto proprio nella ellis già l'eco evidenziato da quel momento dentro la ellis vediamo che abbiamo una forte candela rialzista e quello è chiaramente un buon segnale con ottime probabilità di riuscita in ottica long cosa non si devono dimenticare quindi trader a proposito delle medie mobili che spesso a quanto mi sembra di capire si dimenticano beh che la media mobile indica un trend il trend per sua natura altrimenti non sarebbe trend tende a persistere e quindi combattere contro il trend è come andare al casino e giocare contro il banco e si gioca con le probabilità a sfavore quindi bisogna ricordarsi quello che abbiamo detto in apertura di trasmissione ricordarsi il motto di wall street il motto principale quindi trend is your friend e quindi non sottovalutiamo le medie mobili scegliamo le nostre medie mobili adatteamole alla nostra operatività ma diamo loro la giusta importanza che hanno più di altri oscillatori forse anche troppo complicati esatto diciamo che soprattutto per chi inizia a fare trading è un motto sempre da tenere presente l'abbiamo rimesso in sovrimpressione ultimissima domanda che è arrivata e poi ti saluto enrico si può fare una specifica sui timing delle medie mobili o se meglio semplici o esponenziali cioè l'abbiamo già detta qual è la differenza tra semplici e esponenziali ma c'è una risposta a questa domanda o dipende proprio dal sì c'è una risposta c'è sicuramente una risposta per chi utilizza un'operatività e che per sua natura è un po più di medio periodo io preferisco la media mobile semplice rispetto all'esponenziale per ogni time frame c'è una media mobile più idonea delle altre sul daily io posso utilizzare la 200 perché mi rappresenta un anno di borsa se dovessi utilizzare un grafico weekly utilizzerei una media mobile a 50 perché sono appunto 52 le settimane in un anno e quindi ci sono anche poi degli strumenti che rispondono meglio ad alcune medie mobili anziché ad altri nel senso le medie mobili da utilizzare sul petrolio possono essere differenti da quelle che si utilizzano su euro dollaro perché questo perché alcuni beni sono in trattazione h24 le azioni invece sono in trattazione 8 ore i future degli indici per 10 ore quindi si tratta semplicemente di sperimentare e se si pensa di stare x tempo a mercato scegliere una media mobile che corrisponda all'incirca a questa tempistica grazie a enrico j scatta col trend per questo momento di formazione ed educazione finanziaria ea presto manuela grazie a te sempre un piacere far parte della struttura di le fonti e di far parte di fast finance un saluto a tutti gli ascoltatori che ringraziamo ovviamente un saluto ai ragazzi della redazione grazie grazie